La storia della moneta antica è interessante perché la moneta nasce specificamente nel VII secolo a.C. nel regno di Lidia. In fin dei conti ciò è già comprensibile e si trova in Erodoto appunto nelle storie di Erodoto e qui si può appunto fare un paragone tra la teoria appunto dell'economista Menger rispetto a Erodoto. Erodoto infatti parla della moneta intesa come quella moneta che fu inventata da Creso appunto re del regno di Lidia. Successivamente noi sappiamo che l'impero persiano Ciro il Grande occuperà e poi conquisterà il regno di Lidia e farà diventare il regno di Lidia parte dell'impero persiano. E da questo punto di vista poi ci sarà appunto una contrapposizione tra persiani e greci. Ma appunto il senso è propriamente questo. I greci, le polis greche di Asia Minore e dell'odierna Turchia impararono appunto che cos'è la moneta sulla base degli insegnamenti di Creso. Di Creso e in fin dei conti di coloro appunto che si avvicinavano, che coniavano le monete. Le monete, attenzione, perché ho citato Menger? Perché le monete ovviamente vennero fin dall'inizio coniate appunto con delle immagini e poi soprattutto in metalli preziosi. Quindi erano metalli d'oro e d'argento. Perché d'oro e d'argento? Qui già Erodoto ci specifica in fin dei conti appunto che erano i metalli preziosi e da lì perché? Perché come dice Menger l'oro e l'argento sono appunto rari e soprattutto sono conservabili, cioè sono durevoli. Quindi i metalli preziosi in questo senso sono durevoli, sono maggiormente conservabili e quindi sono stati scelti naturalmente dagli esseri umani per appunto essere avvalorati in questo senso come mezzi di scambio. Lo stesso Aristotele successivamente, molto dopo, nel IV secolo a.C., parlerà di moneta non già solamente come mezzo di scambio ma come moneta d'oro e d'argento. In fin dei conti come moneta di metallo in quanto durevole per commisurare lo scambio. Quindi il senso del valore non soltanto appunto per paragonare, comparare il valore per appunto migliorare gli scambi ma appunto perché in questo modo il mezzo di scambio sia maggiormente conservabile e si possa dunque sviluppare lo scambio. Non è un caso quindi che i greci, in realtà i lidi, trovarono una soluzione importante al baratto perché il baratto in fin dei conti limita un po' lo scambio. La moneta è un mezzo di scambio molto più semplice, probabilmente per il semplice motivo che attraverso questa si può mediare dunque lo scambio. E' interessante notare che nel momento in cui appunto il Creso appunto fa conoscere la moneta ai greci, piano piano i greci cominciarono sempre più a coniare le loro monete. Ogni polis greca cominciò a sviluppare le sue monete specifiche. Noi abbiamo soprattutto fonti di Atene, appunto una delle monete più importanti dell'antica Grecia, soprattutto anche perché poi arriviamo anche al rapporto tra appunto concorrenza monetaria e monopolio, è probabilmente quello di Atene. Cioè Atene appunto cominciò a coniare le tetradramme ateniesi con appunto sopra le immagini la civetta. Quindi riprese appunto quel senso teologico politico anche proprio delle monete di Lidia e lo sviluppò anche attraverso se stessa. Se voi prendete le monete ateniese antiche e erano coniate con una civetta, la civetta è l'immagine della dea Atena. In realtà la civetta è l'immagine iconografica della dea Atena, quindi per rimandare alla dea Atena, Atena protettrice di Atene. Anche attraverso le monete dunque si sviluppava appunto il senso teologico politico della provenienza. Quindi ogni uomo in Grecia o anche fuori dalla Grecia, in Magna Grecia, nel momento in cui magari vedeva appunto questa moneta d'argento, e adesso vi spiego anche il perché d'argento, appunto capiva che era di Atene, capiva che la provenienza era ateniese. E quindi in questo senso c'era un modo di fare influenza anche agli altri. D'argento perché erano coniate, è indovinato un po' nelle miniere dell'Aureon queste monete, appunto perché Atene appunto aveva vicino queste miniere, miniere d'argento. Non è un caso appunto che lo stesso Temistocle utilizzò appunto i fondi delle miniere dell'Aureon per fare costruire una flotta, per prepararsi alla seconda guerra greco-persiana, che poi fu vinta peraltro dai greci Atenesi, ma in generale poi dai greci in generale, nella battaglia di Salamina nel 480 a.C. Questo è un presupposto importante perché comunque sia i greci si affidavano tantissimo appunto ai metalli preziosi e quindi capiamo perfettamente che rispetto ad oggi tutte le monete nell'antichità erano monete che venivano definite Aure. Il presupposto, e quindi erano sempre di metallo. Chiaramente poi il senso del monopolio, per esempio perché anche in Grecia cominciò a esserci il senso del monopolio anche da un punto di vista monetario se vogliamo, perché le polis greche cominciarono a concorrere tra loro da un punto di vista appunto della concorrenza se vogliamo di mercato, cioè ogni polis cominciava a coniare le sue monete e competeva con le altre nella circolazione delle monete. Ovviamente si parla di inflazione nell'antichità quando per esempio c'è, non so, una moneta d'oro che viene mescolata con un po' d'argento, con un po' di bronzo, con un po' di ferro, chiaramente perde di valore. E quindi in fin dei conti quella moneta non vale più tanto quanto in realtà dovrebbe valere l'originario senso della moneta. Infatti le pesavano, cioè pesavano le monete per verificare se quella era davvero la moneta d'oro perfetta, tutta fatta d'oro oppure tutta fatta d'argento, tutta fatta di bronzo e se il peso non tornava evidentemente c'era qualcosa che non andava, la moneta era inflazionata. Tra l'altro ci sono anche successivamente, verranno presi anche in considerazione degli studi sul tema della caduta dell'impero romano come anche inflazione monetaria, questo è molto interessante, al di là delle altre rispettive tesi come la crisi del curso sonorum già sviluppata da Hegel e anche il tema dell'accentramento nell'imperatore, però è interessante anche il tema della moneta. Al di là di questo poi, il tema è interessante perché ritorniamo al tema del monopolio e la concorrenza monetaria. Atena a un certo punto sviluppò la sua egemonia, egemonia in questo senso anche da un punto di vista commerciale, sulla competenza e in rapporto anche agli altri, aveva il pireo, quindi in questo senso sviluppava gli scambi e aveva le miniere dell'Aurion per cognare moneta. Tuttavia a un certo punto Atena acquisì appunto quello che in economia viene definito inteso come monopolio, una sorta di monopolio legale tale per cui negò la concorrenza, se vogliamo anche monetaria rispetto alle altre polis, nel senso che le polis e le altre, gli alleati di Atene erano liberi di commerciare. Il problema è che indirettamente dovevano ad Atene una grande somma di denaro. Quindi in fin dei conti spesso quei commerci che le altre polis dovevano fare, in realtà le facevano per anche Atene. Quindi le entrate che spesso le polis alleate di Atene durante la Lega Delioattica successiva alla Seconda Guerra Greco-Persiana fatta con il presupposto che i persiani sarebbero tornati, almeno così diceva Atene, in realtà non faceva altro che aumentare i fondi di Atene. Certo la cassa era appunto sull'isola di Delo, Lega Delioattica perché era la Lega, ovvero sia l'alleanza di Atene e i suoi alleati. Questa era una cassa posta sull'isola di Delo dove dentro c'erano dei fondi, ovvero sia in fin dei conti monete. Ecco, queste erano però tasse che poi a un certo punto lo stesso Pericle fece spostare, cioè la cassa fu presa, cioè fu fatta prendere da Pericle e fu fatta spostare ad Atene vicino al Partenone, sotto il Partenone. Questo è interessante perché ci fa capire in verità di cosa stiamo parlando, cioè del senso che Atene a un certo punto acquisì attraverso, se vogliamo, il senso della forza, cioè il monopolio della forza, la cassa e la utilizzo anche per appunto le proprie esigenze. Un esempio è la costruzione delle navi o il mantenimento della flotta. Attraverso questa cassa Atene mantiene la costruzione della flotta. D'altro canto c'era anche la ritorica che lo faceva per difendere in potenza gli alleati, non solo dagli spartani ma poi in generale anche dai greci nemici. E questo è appunto un altro presupposto. Detto questo sicuramente c'è e ci fu anche da un punto di vista della filosofia politica una grande influenza da un punto di vista monetario. Infatti non è un caso che a un certo punto tanto Platone quanto poi Aristotele parleranno del senso delle economie e della ricchezza. Entrambi i filosofi, soprattutto Platone ma in parte anche Aristotele, criticheranno la ricchezza e non è un caso perché a un certo punto il regno di Lidia sarà acquisito dai persiani. Ora a mio parere ci sono due punti da prendere in considerazione. Da un lato il fatto che i persiani che appunto i greci consideravano totalmente come barbari e quindi inferiori siano stati, abbiano acquisito il regno di Lidia che aveva insegnato comunque sia i greci a coniare moneta. D'altro lato appunto c'è anche il tema di ciò che non si dice rispetto probabilmente all'influenza che i persiani essi stessi ebbero sui greci. Ecco ci sarebbe da dire dunque questo che in certo qual modo da un lato Platone attraverso quindi il senso anche della moneta e il senso della ricchezza utilizzerà la repubblica come critica alla metodologia di Perichel al suo imperialismo che per appunto Platone porterà alla corruzione di Atene e in certo qual modo all'inizio della guerra del Peloponneso in fin dei conti dunque come Platone esprime nel Gorgia a una crisi della città all'interno appunto delle sue mura. D'altro lato dunque lo stesso Aristotele ma in parte anche Platone faranno appunto riferire questo tipo di comportamento come indiretto rispetto al comportamento barbaro cioè il timore del fatto che una persona possa soprattutto se governa una città utilizzare la sua ricchezza o dire di utilizzare la ricchezza della città in fin dei conti per le sue esigenze come peraltro Platone cominciò a pensare quella di Pericle. Naturalmente Platone ne parla opposto perché Pericle era già morto dopo la sua nascita ma tant'è rispetto al fatto che io voglio utilizzare la ricchezza per mantenere il potere quindi ci fu dal punto di vista filosofico politico anche il tema del collegamento tra il senso della moneta come senso appunto di voler mantenere a tutti i costi il potere e quindi in questo senso una critica alla ricchezza e alla ricchezza di stampo anche esorbitante spropositato. Platone infatti nella Repubblica toglierà la proprietà privata in questo senso e appunto darà in là diverse soluzioni anche di stampo comunista che negheranno l'esigenza la prospettiva della scarsità. In fin dei conti tuttavia la moneta nasce come appunto esigenza rispetto alla scarsità del reale perché appunto la stessa moneta in fin dei conti è riguardante la scarsità se ci facciamo caso appunto riguarda ciò che è raro all'interno della moneta essa stessa l'oro e l'argento serviva un qualcosa di medio lo stesso Aristotele per l'appunto lo specifica e poi d'altro canto il tema poi propriamente dell'utopia cioè il tema del voler abbattere il senso dello scambio perché siamo già appunto noi stessi capaci appunto di restare in comunità lo stesso Aristotele tuttavia parlerà delle esigenze in verità dello scambio come incentivo anche appunto all'economia di mercato e in certo qual modo anche alla produzione e allo sviluppo e all'arricchimento della città e non è un caso che lo stesso Aristotele ponga per dare un maggior senso economico pratico alla città anche da un punto di vista delle entrate tanto da un punto di vista della produzione quanto i fin dei conti monetario vicino al mare infatti Atene poi aveva il Pireo Aristotele avrà pure essere donato a sta gira una grande influenza da parte del di Atene e in fin dei conti capirà l'esigenza degli scambi su cui peraltro i greci antichi si basarono tantissimo nell'antica Grecia si scambiava tantissimo e dunque il presupposto naturalmente è che da un lato c'è il presupposto filosofico politico del fatto che colui che secondo Platone Aristotele utilizza troppo il suo denaro e mostra troppo questa esigenza è in certo qual modo un potenziale tiranno e si sta imbarbarendo d'altro lato tuttavia c'è appunto l'esigenza in se stessa dell'economia come scelta di fare determinate decisioni per non far decadere la polis da un punto di vista delle entrate e delle uscite quindi in questo senso la moneta è utile perché mi permette appunto non solo di velocizzare gli scambi ma di comparare anche i costi per capire meglio ciò che devo fare per la città così che in questo senso le famiglie partendo dagli individui dal loro lavoro possano incentivarsi e essere incentivati a migliorare appunto il loro lavoro quindi possano sussistere all'interno del meandro familiare e poi appunto produrre quella che si potrebbe chiamare noi moderni chiameremo crescita economica quindi attraverso un qual certo tipo di lavoro un qual certo tipo di produzione la messa in gioco in questo senso di questo noi riusciamo quindi a creare ricchezza e questo è interessante perché comunque sia si rifà anche al tema della moneta e al rapporto dunque anche col diritto cioè a un senso di scambio reciproco che non veda in questo senso l'imposizione del diritto del più forte da cui peraltro parerà anche lo stesso Platone all'interno delle sue opere in cui Socrate porterà il tema della morale per specificare appunto il tema della se vogliamo libertà individuale ciao